L'Aquila di Perrone si prepara al secondo impegno consecutivo in casa in programma sabato contro la capolista Spal. Intanto arrivano buone notizie dall'infermeria. Il centrale difensivo Giordano Maccarrone è tornato a correre dopo aver smaltito lo strappo muscolare di oltre tre settimane fa. Buone notizie arrivano anche sul conto del terzino siciliano Dennis Di Mercurio, che da ieri ha iniziato a svolgere uno specifico lavoro atletico sul campo. Non si è invece allenato il difensore ex Pescara Emanuele Pesoli a causa di un attacco febbrile. Si è vociferato intanto sul fronte societario del possibile acquisto di quote dell'Aquila Calcio da parte di una cordata di imprenditori romani, tra cui l'ex vicepresidente del Martina Franca Enrico Folgori. Nella giornata di mercoledì scorso c'era stato anche un primo incontro interlocutorio a cui avevano partecipato i vertici rosso-blu e i rappresentanti della cordata. Nelle ultime ore però la trattativa sembra essersi arenata. Il club aquilano pagherà autonomamente la scadenza del 16 febbraio e ha intenzione di andare avanti senza l'aiuto di imprenditori di fuori. In compenso si proverà a coinvolgere maggiormente Eliseo Iannini, rientrato in autunno nel sodalizio aquilano come main sponsor. Intanto, per quanto riguarda il processo sul calcio scommesso, è stato formalmente presentato l'appello contro la decisione della Tribunale Nazionale Federale, che la scorsa settimana ha inflitto 13 punti di penalità al club rosso-blu. L'Aquila sarà difesa dagli avvocati Flavia Tortorella e Carlo Celani, membro effettivo della Corte Federale della Federazione Golf.